No, funziona in questo modo il movimento perché il sindaco di Parma avrà possibilità di fare le controdeduzioni. Ma ripeto, qui c'è stato un problema di trasparenza, gli avvisi di garanzia, anche se sono atti dovuti, devono essere comunicati, ma non a me, a Luigi Di Maio, devono essere comunicati a cittadini che hanno eletto tutto qua. Ma tranquilli, insomma, parliamo di cose veramente importanti come la carta dell'onestà.